Non sai fare di meglio? Dovevi proprio chiedere. Questo è il meglio che so fare. Esattamente quello che volevo. Tutti voi contro tutti me. Come potete sperare di fermarmi? Come ha detto il vecchio saggio, insieme. Oh no... Oh no... Oh no... Grazie a tutti. Oh, beh, con il senno di povero. Grazie a tutti.